Benvenuti in questo tutorial, io sono Danilo D'Antonio, in questo video vi faccio vedere come si utilizza il sito Noiè Io Sono. Per fare questo adoperiamo il motore di ricerca Google e scriviamo Noiè Io Sono. Andiamo nella ricerca in Noiè Io Sono la Nazione ed entriamo dentro il sito. Ci appare una tendina di avvertenze che è interessante leggere per avere maggiore consapevolezza e possiamo nasconderla cliccando sulla X in alto a destra. Il sito ci appare così nella sua completezza. Abbiamo la scritta Noiè Io Sono la Nazione e subito in basso il menu a tendina con le varie voci. Se scorriamo verso il basso in video abbiamo sulla destra le varie produzioni del Noiè Io Sono. Noiè TV OPPT, Ominet La Rete Senza Rete, Tutorial, Conferenze, Telegram, Facebook, Archivi OPPT, SEC, Registro Dance, Ricerca Dance Number, UPIC. Se torniamo verso l'alto a sinistra abbiamo la prima informazione sulla nuova governance sia scritta e andando verso il basso abbiamo un breve video di introduzione alla nuova matrice. Poi ancora scorrendo verso il basso abbiamo la prima informazione sulla IEM, la volontà e la parola di Io Sono con il prologo. Sulla destra abbiamo l'elenco chat ufficiali del Noiè Io Sono e subito in basso abbiamo le eventi in programma che sono gli ultimi eventi di solito esposti. Tornando verso l'alto sul sito andiamo ad analizzare un po' più approfonditamente le varie tendine, soprattutto la storia dove abbiamo le bolle papali, la nascita del Trust, il diritto marittimo, l'atto di nascita e il Public Trust 1776. Poi andiamo sulle tendine terre italiche dove ci vengono mostrate sulla cartina dell'Italia tutte le terre attive sul territorio italiano dove noi possiamo prendere informazioni in presenza. Sulla sinistra infatti vengono elencate tutte le terre italiche, terra abruzzese, calabrese, campane e via dicendo. Usciamo dalla tendina e andiamo nella tendina documenti che è quella più interessante. Sui documenti abbiamo un menu a tendina animato dove ci saranno poi l'elenco del cammino del Noiè. Gli approfondimenti li faremo nei video successivi. Arrivederci al prossimo tutorial.